Una donna di 42 anni di Lecce è rimasta uccisa in un incidente tra la sua auto in furgone in A23, traffico rallentato e lunghe code anche oltre lo svincolo di Palmanova. Ha scavato tra le macelle di Amatrice per 5 giorni, estraendo 4 corpi e la storia di un vigile del fuoco friulano che racconta la disperazione per non aver potuto fare di più. Si è conclusa l'operazione Pandora della polizia che ha scoperto oltre 200 stranieri colpevoli di truffa ai danni dell'erario e chiedevano falsi ricongiungimenti familiari per persone mai entrate in Italia. Audizione pubblica oggi a Verona per la DOC interregionale delle Venezie dedicata al Pinot Grigio. L'83% del prodotto nazionale nasce nel Triveneto ma c'è chi teme che le aziende venete non possano prendere sopravvento sul mercato. Raggiunto l'accordo per un nuovo presto di Nelson Algeno, il brasiliano torna nella squadra che lo valorizzò da Napoli. Intanto dicono che volevamo Coombs che invece sarà a Udine fino al giugno prossimo. A tutti voi buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca e con un grave incidente che si è verificato questa mattina sull'A23 nel tratto compreso tra il Bivio A4, A23 e Udine Sud in direzione Udine. Nel sinistro sono stati coinvolti una vettura e un furgone che dopo l'uoto è finito fuori strada. L'automobilista, una donna di 42 anni di Lecce, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario e il personale di Autovie Venete della Polizia Stradale. Tre i chilometri di coda che si sono formati in A23 dal nodo di Palmanova in direzione Udine e un chilometro in A4 fra San Giorgio di Nogaro e il nodo di Palmanova. Il traffico non è stato bloccato ma è defluito lentamente in corsia di sorpasso fino al completo riprestino della viabilità. E si è conclusa con altri dieci indagati l'operazione Pandora della Polizia di Stato che nel 2015 aveva consentito di deferire all'autorità giudiziaria oltre 200 stranieri che avevano indebitamente avviato procedure di ricongiungimento familiare attraverso l'esibizione di documenti falsi. L'attività era iniziata nel 2014. La squadra mobile della questura di Gorizia si era concentrata su cittadini somali già presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno che avevano avviato le procedure per l'acquisizione della residenza a Monfalcone al solo scopo di chiedere ricongiungimento familiare. L'invio telematico della documentazione veniva con la mediazione della titolare di un'agenzia d'affari e di sbrigo pratiche amministrative di via 9 giugno a Monfalcone ora chiusa, denunciata per favoreggiamento all'immigrazione clandestina e false attestazioni. Le indagini sviluppate in collaborazione con l'agenzia delle entrate, l'Inps, si sono poi estese anche nei confronti di centinaia di cittadini del Bangladesh residenti a Monfalcone che nel 2013 e 2014 avevano avviato procedure telematiche appoggiandosi alla stessa agenzia d'affari per la richiesta di assegni familiari e detrazioni d'imposta per familiari a carico, in realtà mai entrati in Italia. Nei giorni scorsi un pakistano è stato fermato dai carabinieri di Udine per spaccio di Ashish. Il carico era destinato alla Kavarzerani. Abbiamo chiesto al prefetto Vittorio Zappalotto se nei centri di accoglienza cittadini esista un problema di droga. Le telecamere di Telefriuli sono entrate per la prima volta nelle strutture dell'ex caserma Friuli, lo speciale realizzato nell'occasione in onda questa sera alle 19.45. Esiste un problema droga interno della caserma ma non è un problema diverso da quello che esiste in città, cioè la caserma non è diversa da quello che succede tante volte nei giardini pubblici di Udine o di altre città italiane. Quel corriere che è stato preso non è un corriere di Udine, non è un corriere della Kavarzerani, non è un profugo che era in carico nostro, veniva da Milano e probabilmente da quello che leggo sui giornali era diretto alla Kavarzerani per come ultima destinazione che ci sia un consumo di sostanti stupefacenti io non lo posso negare l'abbiamo già riscontrato noi nel corso dei servizi di Udine pubblico che facciamo all'interno della caserma anche di notte anche con i cani abbiamo riscontrato che c'è un utilizzo di sostanze di hashish di droghe leggere, cosiddette leggere. Questo rientra anche un po' in quella che è la cultura di questi popoli che non hanno mai smesso di utilizzare queste sostanze anche prima di venire in Italia. Fa un po' parte della loro cultura, certo è illegale e noi siamo lì per sanzionarli. Naturalmente tutti quelli che noi troviamo in certe condizioni o che spacciano o che fanno uso di droghe li espelliamo dal sistema di accoglienza. Un geometra completamente sconosciuto al fisco l'ha scovato la Guardia di Finanza di Gorizia era attivo in tutto il Triveneto come consulente tecnico commerciale di imprese e dili partecipanti a gare pubbliche o a giudicatari di appalti per esecuzioni di grandi opere. Al termine delle ispezioni è emerso che il professionista non aveva dichiarato redditi per oltre 420 mila euro nel periodo tra il 2009 e il 2013 ed evaso l'imposta sull'ora aggiunto per 63.262 euro. Dalla perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti documenti extra contabili ed elementi provatori che hanno permesso di accertare il reale volume d'affari del geometra. L'agenzia delle entrate ha accolti i rilievi delle fiamme gialle ha emesso 5 distinti avvisi di accertamento per una sanzione complessiva di 221.250 euro. I carabinieri del nucleo dell'ispettorato del lavoro e del comando provinciale di Udine venerdì scorso hanno eseguito controlli su 13 centri massaggio gestiti da cinesi. Nel mirino in particolare sono finite 4 attività ovvero il centro massaggi rosa rossa di tricesimo, il centro massaggi luna a Palmanova, il centro massaggi sorpresa e il centro relax queen di Codroipo e i rispettivi titolari sono stati sanzionati perché occupavano 5 lavoratori in nero. Tre persone sono state deferite a piede libero alla procura della Repubblica di Udine. Si tratta di una cinese di 31 anni già aggravata da provvedimento di espulsione e di due cinesi di classe 65 e 69 che hanno occupato un lavoratore privo di permesso di soggiorno. Sono state combinate sanzioni per 26.000 euro. Spettacolare incendio fortunatamente senza grosse conseguenze alla Fantoni di Osoppo. Le fiamme sono divampate dopo le 3 di questa notte bruciando una catasta di legname che si trovava all'esterno dell'azienda. Incendio nella notte alla Fantoni di Rivoli di Osoppo. Poco dopo le 3 all'esterno della sede una catasta di legna ha preso fuoco. In fiamme un migliaio di metri cubi di materiale destinato a essere utilizzato per realizzare pannelli. Il rogo è stato veloce anche perché la legna era secca e il vento ha favorito il rapido divampare delle fiamme ma è rimasto circoscritto al piazzale del legname e non ha intaccato le strutture aziendali che si trovano comunque a una certa distanza dal deposito. Nessun impianto produttivo è stato fermato. I danni non risultano ingenti. La perdita infatti riguarda solo il legname ed è stimabile sull'ordine di qualche migliaia di euro. Sul posto, oltre al personale della società subito a corso, sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati con 15 mezzi in arrivo dal comando di Udine ma anche da San Daniele, Gemona, Monfalcone e dalle centrali di Pordenone e Gorizia i carabinieri e la polizia stradale. Le forze dell'ordine stanno indagando per scoprire le cause dell'incendio ma non è escluso che a inescare le fiamme sia stato un fulmine vista la forte attività temporalesca in corso nella zona. Giornata di super lavoro anche per i vigili del fuoco di Trieste che sono stati impegnati nel travaso di 47 tonnellate di gas propano contenuti all'interno di una cisterna danneggiata. Hanno lavorato un giorno intero dalle 8 e mezza del mattino alle 8 e mezza della sera i vigili del fuoco di Trieste assieme ai colleghi di Venezia per travasare 47 tonnellate di gas propano da una ferrocisterna danneggiata. Il mezzo era infatti parcheggiato da diversi giorni nello scallo del binario d'emergenza per merci pericolosi della stazione di Villa Opicina. 8 gli operatori dei pompieri specializzati del nucleo batteriologico chimico radiologico di Trieste che sono partiti con 4 mezzi dalla sede centrale del comando per preparare l'attrezzatura per il travaso in attesa dell'arrivo dei colleghi dal comando provinciale di Venezia. Dalla città lagunare sono infatti arrivate 7 unità e 3 mezzi per l'operazione di travaso del gas che è stato riversato in un'altra ferrocisterna fatta arrivare appositamente sul posto. Ha estratto i corpi di 4 persone purtroppo decedute sotto le macerie ad Amatrice vi proponiamo la testimonianza di un caposquadra in servizio ai vigili del fuoco di Udine che è appena rientrato dalle zone terremotate del centro Italia. Il protagonista di questi soccorsi si dice davvero rammaricato di non essere riuscito a restituire i corpicini di due ragazzine rimaste sotto una casa crollata. La sua permanenza, ricordiamo che questo caposquadra in servizio da 25 anni è stata di 5 giorni nelle zone terremotate purtroppo avete anche recuperato dei corpi, delle salme. Sì, abbiamo trovato 4 corpi e purtroppo cercavamo due bambine di certo in quel punto lì ma il nostro grande rammarico è che non siamo riusciti a trovarle. Perché questo? Perché nonostante i sforzi che abbiamo fatto e il rischio che abbiamo accorso perché lì si tratta di lavorare in mezzo delle vie dove ci sono ancora case in piedi però basta un niente, una piccola vibrazione una piccola scossa ci viene giù tutto addosso. Quindi abbiamo insistito fino al limite ma non siamo riusciti a trovarle. Invece abbiamo trovato due donne che c'erano state segnalate dal marito che in quel momento era fuori dal paese e abbiamo trovato altre due persone che si trattava di un panificio quindi in quel momento stavano lavorando per fare il pane ci hanno indicato più o meno dove si trovava il negozio e andando giù piano piano con le benne le abbiamo trovate. E restiamo da matrice perché con la posa di una prima base in cemento armato comincia a prendere forma il bypass del ponte a tre occhi opera nella quale è impegnata la protezione civile del Friuli Venezia Giulia che collabora con il Genio Militare insieme ai Vigi del Fuoco e all'azienda Strade Lazio. Su questa prima struttura di sostegno vengono appoggiati 30 elementi scatolari incastrati tra loro la cui collocazione sarà completata a breve. Sopra sarà quindi apposto un altro strato di cemento armato indispensabile per garantire la coesione dei moduli e la ripartizione del carico. L'ultimo passaggio per rendere agibile il guado capace a quel punto di sopportare qualsiasi carico di traffico pesante sarà il getto di uno spessore di 3 cm di asfalto per il quale bisognerà attendere venerdì quando gli strati armati saranno definitivamente rappresi e consolidati. Il ponte a tre occhi irreversibilmente lesionato dal sisma costituiva uno snodo strategico per l'accesso dei metri di soccorso e il guado realizzato a valle sulla 260 permetterà con la sua struttura e la carreggiata di 6 metri di riattivare il flusso veicolare a distanza di circa 1,5 km dal centro di Amatrice. Sempre oggi il personale tecnico della protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha allestito nella direzione di comando e controllo della protezione civile nazionale di Rieti il polo cartografico per l'elaborazione dei dati della tecnica di rilevamento leader basata sui dati topografici ad alta risoluzione acquisiti per via aerea grazie all'elicottero unico in Italia nel suo genere messo a disposizione dal Friuli Venezia Giulia i primi dati grezzi potranno essere disponibili già per venerdì prossimo 2 settembre Università di Udine e Vigili del Fuoco mappano le criticità per la messa in sicurezza urgente dopo il terremoto che ha colpito il centro Italia e all'Ateneo Friulano e all'Opera Laboratorio Sprint per fornire un quadro completo a chi deve decidere sulle territori o le priorità di intervento contribuire a mappare le criticità strutturali e ad attuare gli interventi tecnici urgenti di messa in sicurezza di infrastrutture strategiche ed edifici monumentali nelle zone del centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto scorso è lo scopo del Laboratorio Sprint di sicurezza e protezione intersettoriale attivo all'Università di Udine che vede la collaborazione di docenti e ricercatori dell'Ateneo con esperti dei Vigili del Fuoco l'Ateneo Friulano coinvolge anche gli studenti del corso di ingegneria che forniscono un supporto volontario per mappare le criticità provocate dal terremoto e fornire le indicazioni in tempo reale a chi deve assumere decisioni per quanto riguarda l'attivazione degli interventi prioritari sul territorio in sostanza ci spiegano gli ingegneri Petra Malisane e Fabio Zorzini coordinati da professor Stefano Grimaz lo scopo del nostro lavoro è di fornire indicazioni come accade nelle triage per le emergenze sanitarie l'attività svolta è anche frutto degli esiti dell'esercitazione CERMEX attuata nel maggio 2014 a Portis di Venzone organizzata dal laboratorio Sprint sempre insieme ai Vigili del Fuoco e delle esperienze internazionali nei terremoti in Nepal nel 2015 ed Ecuador nel 2016 a Portis vennero infatti sperimentate le schede le tecniche di rilevamento rapido dei danni e la relativa mappatura a servizio dell'emergenza poi applicata in Nepal e in Ecuador la risposta coordinata tra Vigili del Fuoco e Università ha sottolineato professor Grimaz in raccordo con la protezione civile nazionale e regionale mette in luce la valenza strategica dell'idea che sta alla base della scuola Serm Academy istituita in occasione del quarantesimo anniversario del terremoto del Friuli e che aveva in programma dal 12 al 18 settembre un'esercitazione sempre a Portis di Venzone proprio per affinare le tecniche di valutazione rapida delle criticità strutturali e di messe in sicurezza in sostanza quella che doveva essere un'esercitazione è stata anticipata dalla drammaticità dei fatti che ha costretto l'università a scendere in campo immediatamente e su uno scenario reale da più parti il sostegno ai terremotati di Lazio e Marche anche dalla musica dell'orchestra giovanile filarmonici Friulani composta da ragazzi di 14 e 28 anni studenti delle scuole di musica regionale abbiamo intervistato il direttore Alessio Venier che aveva già deciso di dedicare la seconda data di Lignano alla città di Lignano che nel 1976 ospitò i Friulani sfollati dai paesi distrutti dal terremoto La musica dei filarmonici Friulani a sostegno delle vittime del terremoto del centro Italia sono una giovane band nata esattamente un anno fa e ha in programma un paio di concerti nel fine settimana il cui ricavato appunto andrà al vittime di questo triste e tragico evento Alessio Venier è il direttore di questa orchestra intanto benvenuto raccontaci un po' chi sono i musicisti e perché avete programmato questa due giorni di concerti Allora innanzitutto insomma il gruppo è un'orchestra sinfonica d'impianto abbiamo fondato circa un anno fa con il desiderio insomma di con un'esperienza anche un po' autogestita tra studenti di esplorare il repertorio classico insomma quello che qualsiasi orchestra sinfonica stabile pratica normalmente nella sua attività questi due concerti erano in programma per il primo e per il 2 di settembre il primo a Sedegliano e il 2 a Lignano a Sabbia d'Oro durante le prove naturalmente siamo stati raggiunti da questa notizia del terremoto in virtù del fatto che insomma è un tema sensibile nella regione naturalmente abbiamo le celebrazioni per i 40 anni e anche addirittura il concerto di Lignano era inserito in una stagione di eventi legati al quarantennale del terremoto quindi una volta venuti a conoscenza di questo evento abbiamo un attimo parlato fra noi e deciso che avremmo raccolto delle offerte libere durante i due concerti e le avremmo devolute insomma in qualche forma istituzionale alle vittime del sisma l'orchestra diciamo di base conta più o meno tra i 30 e i 35 elementi però visto il programma che vogliamo presentare in questi due concerti abbiamo ampliato le file fino a 45 persone circa perché appunto il programma nella prima parte sarà incentrato su un concerto solistico per pianoforte il terzo concerto di Ludwig van Beethoven appunto con come solista un giovanissimo direi pianista friulano di Flaibano che è Sebastiano Gubian che ha 19 anni e nella seconda parte invece eseguiremo la quinta sinfonia di Beethoven quindi insomma un brano di repertorio conosciutissimo La parte più cospicua dei rifiuti prodotti nella nostra regione è composta da rifiuti speciali nel 2014 sono state prodotte oltre 3.000 tonnellate di rifiuti speciali pari a 82% del totale a fronte di poco o meno di 570.000 tonnellate di rifiuti urbani che percentualmente sono solo il 18% della produzione totale e quanto emerge dall'analisi su cui si basa il progetto il progetto di piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali presentato alla quarta commissione del consiglio regionale presieduta da Vittorino Bohem dall'assessore dell'ambiente all'energia Sara Vito il piano indica linee guida d'indirizzo che possono essere prese a riferimento per favorire la riduzione dei rifiuti prodotti e la loro pericolosità ma anche per incoraggiare il loro trattamento nel territorio regionale in vicinanza a luoghi di produzione anche grazie allo sviluppo di sinergie tra le diverse attività industriali presenti sul territorio le azioni individuate hanno lo scopo di favorire la ricollocazione di rifiuti sul mercato regionale promuovendo il recupero e il principio di prossimità anziché lo smaltimento in discarico o il conferimento in impianti extra regionali sono azioni volte alla salvaguardia dell'ambiente parallelamente dedicate a creare opportunità per l'economia dell'intero territorio regionale secondo una visione innovativa che consiglia dei rifiuti non come scarto bensì come opportunità oggi a Verona con l'audizione pubblica la DOC interregionale delle Venezie dedicata al Pinot Grigio ha fatto un altro importante passo avanti la nuova denominazione intende valorizzare questo vitigno prodotto in Veneto Friuli Venezia Giulia e Trentino su una superficie complessiva di 20.000 ettari che rappresenta l'83% dei vigneti a Pinot nell'intera penisola italiana in Friuli non sono però mancate le polemiche per il pericolo che diventi l'ennesima occasione di colonizzazione da parte delle aziende venete Con la DOC delle Venezie per il Pinot Grigio il Friuli ci guadagna o ci perde? Sicuramente è un'opportunità superiore per quanto riguarda anche la nostra regione quindi la nostra regione in questo caso ci guadagna ci guadagna primo perché riusciremo essendo uno dei grossi produttori importanti di Pinot Grigio assieme al Veneto e al Trentino come dicevo riusciremo a regolamentare questa produzione avremo quindi un bacino importante una massa critica interessante e quindi potremo affrontare con grandi numeri i mercati mondiali quindi i mercati globalizzati In cambio sembra che i veneti ci lasciano l'esclusiva per la ribolla gialla spumatizzata, è così? Questo è quanto è stato richiesto e questo è quanto anche il Veneto ha accettato e quindi la ribolla gialla rimarrà al di fuori della produzione veneta ma rimarrà solo esclusivamente per il Friuli Venezia Giulia ed oltre ad essere un vitigno storico nella nostra regione per quanto riguarda le colline e come forma di vino fermo sta prendendo oggi piede per quanto riguarda la spumatizzazione quindi la ribolla gialla sarà sicuramente il nostro prossimo obiettivo il nostro grande cavallo a battaglia Alternativa al Prosecco? Questo è superiore al Prosecco e quindi con tutta una storia alle spalle diversa e che quindi mette in risalto la tipicità della produzione in Friuli Venezia Giulia legata ai vini bianchi Prima di aprire la nostra pagina sportiva la vignetta disegnata per noi da Fernando Venturini Il mercato si chiude domani Stiamo parlando della sessione estiva appunto del mercato per quanto riguarda la Serie A con le società che non hanno ancora dato l'ufficialità ma a Genova oggi è stato annunciato l'arrivo di Edenilson un arrivo che è un ritorno in realtà per il brasiliano che aveva già indossato la maglia rosso-blu due stagioni fa l'intesa dovrebbe essere arrivata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto L'udinese ha sistemato ieri sera anche il neo-arribato Arvawi primo acquisto della stagione è già andato via da Udine senza mai vedere il campo il tutto nell'ambito di un'operazione che ha portato in Inghilterra Okaka e a Udine in presito l'ex capitano del Ghent Coombs, centrocampista classe 88 Coombs sarà bianconero fino al 30 giugno 2017 cresciuto nelle giovanili del Anderlecht con la maglia del Ghent si è laureato campione del Belgio nella stagione 2014-2015 conquistando anche il titolo di calciatore dell'anno del campionato nazionale nel 2015 pare che su di lui ci fosse anche il Napoli che l'udinese sia riuscito all'ultimo momento a strappare o la concorrenza partenopea avete visto nelle immagini l'odi da stabilire in queste ultime ore di mercato anche il suo destino assieme a quello di Davide Faraoni per ora inseriti nella conta dei giocatori di formazione italiana necessari per rispettare le regole sui vivai ma che potrebbero non più essere nel caso arrivasse lasagne ci sono trattative in corso c'è tempo fino a domani appunto per chiudere tutte le operazioni e intanto notizia di poco fa due distinte operazioni avvicinano il difensore Cristian Cabasele all'udinese con il ventilato a prodo di Marcel Tisserand all'Ingolstadt e quello ufficializzato di Maria Appa al Watford all'udinese non sembra che rimanera appunto la soluzione della quale abbiamo parlato sembrava una soluzione pronta a saltare perché il giocatore era stato tolto dal mercato per volontà di Mazzari ma appunto pare che possa non più essere così restando al calcio atteso a Fagania per sabato prossimo Gigi Del Neri sarà lui il relatore di uno stage sul campo organizzato dall'AIEC provinciale di Udine il mio calcio è il titolo dell'incontro con i lavori che inizieranno sul campo alle 9.30 per proseguire fino alle 12 dopo la discussione sul lavoro svolto il tecnico pranzerà assieme a partecipanti e organizzatori e in chiusura del nostro telegiornale ci colleghiamo con Alexis Sabot che torna alla guida di Telefriuli estate da questa sera e quindi chiediamo a lei qualche anticipazione buonasera Alexis Buonasera a te Francesca e tre spettatori di Telefriuli questa sera ritorniamo in diretta da Lignano Sabia d'Oro ma ritorniamo all'arena Alpe Adria perché seguiremo in diretta il concerto per coro orchestra Carmina Burana a cura dell'associazione musicultura coro Santa Cecilia di Portoguaro e questo è il secondo appuntamento inserito nel ricco programma di iniziative dal titolo Lignano Cera 1976-2016 per commemorare i 40 anni dal telepoto che colpì il Friuli in particolare il ruolo fondamentale di Lignano Sabia d'Oro che ospitò le popolazioni terremotate quindi seguiremo in diretta a partire dalle 21 il concerto noi però saremo in diretta dalle 20.30 e quindi avremo modo anche di conoscere queste realtà e naturalmente avremo anche la possibilità di vedere insieme le rubriche che contraddistinguono Telefriuli Estate il martedì è sempre il momento della ricetta estiva e quindi ritorna in campo come si usa in gergo sportivo Annalisa Sandri con le sue ricette appuntamento quindi in diretta dall'arena Alpeade di Lignano Sabia d'Oro con Telefriuli Estate dalle 20.30 a te Francesca buona serata grazie Alexis buona serata a te grazie anche a Paolo Bassi il nostro telegiornale termina qui a voi grazie per averci seguito e l'augurio di una buona serata su Telefriuli grazie a tutti